Stiamo vivendo una fase molto delicata della nostra storia recente. Si è abbattuta sul mondo una pandemia che ha dei ricordi, dimanda ricordi tragici del passato e che sta invadendo progressivamente il mondo. L'Italia è tra i paesi che ha meglio contenuto l'avanzamento della pandemia e tale vorrebbe restare. I provvedimenti drastici assunti dal Governo sono dei provvedimenti che si ritengono indispensabili dal punto di vista del Comitato Tecnico Scientifico per evitare la progressiva invadenza di questa malattia. Il Governatore della Regione Campania, Enzo De Luca, ha sostenuto l'esigenza e la necessità di correre in soccorso alle persone che vedono compromesse le loro attività e la loro vita con un piano socio-economico. Lui l'ha già fatto nella prima ondata della pandemia, l'ha fatto come Regione Campania e ha proposto al Governo un'iniziativa analoga sul modello della Regione Campania per fare in modo che nelle tasche di cittadini arrivassero dei conforti, delle possibilità di sopravvivenza in questa fase. Ci sono state delle manifestazioni in Italia, è comprensibile la disperazione di chi vede il futuro compromesso, però questo non autorizza a gesti scomposti ed aggressivi che nulla hanno a fare con l'amitezza e con la dignità delle persone che sono in una condizione disperata. Bisogna fare in modo che queste stesse persone che combattono per un diritto giusto, per una richiesta di dignità umana, bisogna che queste stesse persone allontanino i facinorosi e quelli che vogliono mestare nel torbido e creare disordine, del tanto peggio tanto meglio. Io sono certo che i cittadini di Salerno siano su questa posizione, la mia vicinanza alle loro necessità e alle loro richieste è senza discussione, la mia compartecipazione è anche emotiva per quello che può valere, però non è ammissibile che si verifichino disordini come quelli dell'altra sera, che sono da censurare senza sì e senza ma. Bisogna che la democrazia segua il suo percorso e allontani chi la democrazia vuole distruggere. Facciamo in modo che questo sia, rispettiamo le solite norme, lo dico sempre, distanza di sicurezza, mascherina, lavaggio a sito delle mani, scaricare l'app, e facciamo in modo che questa tragica contingenza divenga un ricordo del passato.